Si avvicina la quarantesima edizione di Montopoli Medioeve, 14 e 15 settembre, sarà come sempre una grandissima tradizione, una grandissima festa. Siamo qui con il primo cittadino, Alessandra Vivaldi, che edizione sarà? La quarantesima, quindi è un'edizione importante, una tappa veramente sentita da tutti e penso che sarà al massimo quest'anno. Tantissima gente prevista che arriverà qui a Montopoli-Valdarno, come sempre una grande accoglienza. Sicuramente, so che l'associazione sta dando il massimo perché questo sia un evento che si ricordi nel tempo, un po' per i 40 anni, ma anche perché ogni anno c'è la volontà di innovarsi, quindi di rinvestire sulla festa, sulle iniziative, sulla storia di Montopoli e quindi sabato e domenica saranno due giorni veramente intensi di iniziative e di bellezze. Siamo qui per questa presentazione del bellissimo libro Montopoli e la sua rievocazione, con il contributo della Fondazione Cassa di Samminiato. La cultura è sempre al centro dell'attenzione. Sì, senza cultura non saremmo ad oggi, non ci sarebbe la nostra storia, non ci sarebbe questa iniziativa. Il libro è un tributo dovuto alla rievocazione che ha fatto il nome di Montopoli un po' dovunque e quindi sicuramente un ottimo progetto è stato raggiunto grazie al contributo della Fondazione e a chi lo ha reso possibile. Veramente si apre bene quest'anno, si apre in bellezza. Il saluto del primo cittadino Alessandra Vivaldi a tutti i nostri telespettatori toscani. Vi invito tutti sabato e domenica a Montopoli per questa quarantesima edizione della rievocazione e quindi speriamo che ci siano tante persone. Andrea Pieroni è presidente della provincia di Pisa, ma essendo un montopolese doc non poteva mancare a questa bellissima presentazione Montopoli e la sua rievocazione. Io credo che sia stata veramente una bella idea quella di affidare alle stampe gli aspetti più significativi della storia di Montopoli, della realtà montopolese che talvolta è poco conosciuta, quindi non sono mai troppe le occasioni per far conoscere e divulgare non solo la storia, non solo le tradizioni ma anche quello che Montopoli continua a dare nel senso di un apporto anche a un territorio più ampio che è quello del Valdarno Inferiore, insomma in termini di bellezze paesaggistiche, in termini di elementi culturali, artistici. E credo che anche in virtù di questi valori, di queste potenzialità, Montopoli è cresciuta molto in questi ultimi anni sul versante turistico. Infatti le presenze stanno aumentando a testimonianza di un'attenzione che c'è, soprattutto da parte dei turisti europei del nord Europa, verso i piccoli borghi, i vecchi castelli, insomma quei luoghi che parlano ancora di una storia antica ma ancora viva. Ed è viva anche la partecipazione per la quarantesima edizione del Montopoli Medioevo, ovvero questo bellissimo Deplian. Io ci sono avuto tantissimi anni e sicuramente domenica sarò presente. Beh, l'occasione di oggi è anche quella di celebrare i 40 anni della rievocazione storica. Ecco, fu veramente un'intuizione eccezionale, il merito va dato a chi appunto 40 anni fa ebbe l'idea di fare a Montopoli una rievocazione storica. Sicuramente gli elementi non mancano, ecco, vedo a volte che si fanno rievocazioni storiche in centri dove la storia è anche un pochino più fragile. Insomma, tutta la Toscana è ricca di storia, però sicuramente Montopoli è stato, come lo definì il boccaccio, castello in signe. È stato luogo conteso nelle battaglie fra Pisani, Fiorentini e poi Lucchesi. Quindi c'è una storia da valorizzare e la rievocazione storica ha avuto questa funzione, insomma, di far conoscere pezzi di storia antica che magari era consegnata solo a pochi addetti ai lavori. Quindi un ruolo importante, la Proloco nacque proprio in occasione della rievocazione storica e quindi il merito a chi ebbe quell'idea, a chi si impegnò con passione, con dedizione, con grande sacrificio ma con grande entusiasmo per fare la prima edizione di quella rievocazione. Un evento che poi negli anni è cresciuto bene, è cresciuto tanto e oggi la rievocazione di Montopoli sicuramente è uno degli appuntamenti più significativi nel settore in Toscana e non solo. La bellezza anche di questi luoghi è la partecipazione, la genuina partecipazione dei cosiddetti cittadini locali, senza di loro forse tutto questo non sarebbe stato possibile. Ormai è chiaro che senza l'apporto, il volontariato e la disponibilità dei cittadini, dei montopolesi, in questo caso non si farebbe nulla, non si farebbe questo, non si farebbero molte altre cose. E' un apporto decisivo ma è un apporto sempre entusiasta, sempre innovativo, di anno in anno la festa, la rievocazione si riempie di nuovi significati, attrae sempre più gente e questo è merito anche di chi la festa la costruisce. Durante l'anno, pensando a come renderla sempre più interessante, sempre più vivace, in modo da poter attrarre visitatori che vengono non solo dal nostro paese ma anche dall'estero.